E in questa fantastica passeggiata che stiamo facendo qui a Sorrento ci fermiamo una tappa fissa, non solo mia ma di tutti, e qui a Scalea, perché qua questo piccolo mondo è Scalea con mondo nu e il suo fantastico Vaffellino. E ci troviamo a parlare con la signora Gina, mamma di Gerardo che ho intervistato al Cioccalandar. Gerardo de Chiara, Gerardo de Chiara. Signora Gina, guardiamo, allora, lei poi mi raccontava che è napoletana. Io sono napoletana, sono di San Giuseppe Vesuviano. E com'è successo poi questo fatto della Calabria? E' successo perché i miei genitori sono andati in Calabria per lavoro e lì ho incontrato mio marito che di Nocera Superiore. Anche lì? Quindi siamo due campani trasferiti in Calabria. Ah beh, ma vi trovate bene? Benissimo, sì sì, abbiamo delle attività, stiamo bene, ho due figli, sono sposati tutti e due, lavoriamo e stiamo bene. E poi Gerardo a un certo punto si inventa... Allora, poi avendo una pasticceria storica... De Chiara, confermo. Sì, dichiara, storica da tanti anni. E lui, sai, è un ingegnoso, mio figlio è un ingegnoso. E quindi ha inventato sto vaffellino, ha aperto un'attività, stava cercando di farne addirittura una catena. Poi si è inventato questi standi per tutta l'Italia. Sì. Lui gira tutta l'Italia con il tour del cioccolato. Ora si trova in Puglia, lui è in Puglia, la mamma l'ha mandata al paese su. E abbiamo questa fontana fantastica di cioccolato bianco, al latte, ma anche... A ramello, fondente, abbiamo vari gusti. E ci divertiamo, noi lavoriamo e ci divertiamo. E poi io l'ho assaggiata, perché poi ero vicino di stand al vomero, al cioccolato al vomero, anche questa cioccolata calda, buonissima, è anche corretta con i vari liquori. È corretta con i vari liquori. Viene, diciamo, macchiata, sporcata di liquori. C'è il liquore calabrese, c'è il liquore nazionale. E io per Giunta ho portato la banana al cioccolato. E io ho portato anche la banana al cioccolato, perché è il periodo di frutta, di frutta invernale ce n'è poco. È vero. Il periodo delle fragole, facciamo le fragole. Adesso è il periodo della banana e facciamo la banana al cioccolato. Al caramello, fondente, al latte e bianco. Con tutte poi le granelle. Con tutte le granelle, i colori, i bambini, sai, piacciono tutti questi colori. C'è una cliente che già sta guardando con aria un po' interessata. Allora, volevo dirvi che all'inizio la signora Gina ha detto, no, ma non mi faccio parlare, perché io parlo poco, non so parlare. Ho detto, ma che non è possibile. Dopo Napoletano non poteva essere. Ma anche dalla faccia simpatica. Eh, grazie. La signora Gina, mondo nu. Mondo nu. Scalea. Scalea, provincia di Cosenza. Ma in questo caso basta venire a Sorrento. Non c'è bisogno. In questo caso è a Sorrento. Ora sono a Sorrento, sono a casa mia. Mi sento a casa mia. E anche io quando sto qui dentro. Perché io sono napoletana, io ce l'ho dentro la mia terra. Vaffellino, che io mi chiamo Lino. Allora lei deve dire Vaffellino. Grazie. Ciao, grazie.